Soluzioni per la menopausa. Allora, molti di voi mi avete chiesto di problemi di menopausa, dice Jill, io sono in menopausa, pre-menopausa, che cosa devo fare proprio per superare questa zona senza entrare in panico? Beh, la regola numero uno è non è una condanna, così potete tranquillamente agire su diversi fronti per aiutarvi con menopausa. Il primo problema della menopausa è una menopausa precoce, sembra una sorta di piaga veramente, perché noi dovremmo vedere una donna entrare in menopausa verso i 50 anni in su, invece molte, molte persone, me inclusa, ha cominciato negli anni 40. Questo non è normale, non fa parte delle norme, però io ho una piccola idea perché succede. Lo stress purtroppo può essere una causante di un menopausa precoce, perché? I surrinali aiutano a produrre gli ormoni sessuali. Quando io sono troppo stressata, o produco troppo adrenalina, o sono sempre on, che cosa succede? Io posso scaricare i surrinali. Quando si scaricano i surrinali, qual è il problema? Il mio corpo fa fatica a produrre a sufficienza quello che mi serve per mantenere il ciclo, ok, a lunga andata. Così dobbiamo assolutamente ridurre lo stress e stressare di meno i nostri surrinali. Il mio primo consiglio per aiutarci a ridurre lo stress è Ganoderma, subito a seguire Mele Slim. Ti spiego questi due prodotti perché, perché Ganoderma aiuta a rilassare il sistema nervoso parasimpatico. Noi abbiamo il sistema nervoso simpatico o attivo e poi il parasimpatico che è il nostro sistema nervoso riflessivo, quello che ci dà la pelle d'occa per intenderci. Molte persone non dormono più bene perché sono sempre stressate, il cervello gli parla tutte le notte, si rotolano nel letto avanti indietro e dietro e avanti e non riescono a dormire profondamente e correttamente tutta la notte. Ganoderma non è un sonifero, Ganoderma aiuta a rilassare il chatter brain. Il chatter brain è quel cervello che ti tiene i svegli alle due di notte facendoti la lista della spesa. Invece se noi diamo il riposo al cervello o gli aiutiamo a ridurre l'ansia, il stato di allarme nel corpo grazie alla parasimpatico che viene rilassato con Ganoderma, noi possiamo dormire tutta la notte di sana pianta. Ci sfideremo riposati, rigenerati e pronti per una nuova giornata. E quando ci rigeneriamo il nostro corpo aiutiamo anche il nostro sorrinali a funzionare al meglio e di conseguenza è un cane che si bacia la coda. L'altra cosa per il Ganoderma è molto importante per i miei amici che sono in menopausa perché chi ha menopausa sa che comunque è più difficile dormire tutta la notte. Allora se io prendo un Ganoderma circa 40 minuti prima di corricarmi la notte è più probabile che posso dormire profondamente per tutta la notte e mi sveglierò rigenerata. Mela Slim. Perché mi piace Mela Slim? Per calmare il sistema parasimpatico? Perché Mela Slim agisce sulla microbioma. Come lo fa? Mela Slim è un estratto della mele standardizzato al 50% di florenzina. La florenzina promuove la proliferazione di un probiotico chiamato Ackermansia. Ackermansia è anaerobico, di conseguenza noi non possiamo produrre l'Ackermansia e dartelo per bocca perché al minuto che si viene in contatto con l'aria o con l'ossigeno non funziona più. Invece Mela Slim stimola la tua produzione endogene di Ackermansia. Ackermansia è come la pettina della mela stessa. Va a fare una sorta di protezione lungo tutti i vili intestinali, a fare una sorta di geletina. Questa geletina aiuta a inibire e ridurre l'assorbimento di zucchero a livello intestinale e altri nutrimenti. Così ci aiuta innanzitutto incassare meno calorie, va bene. Per la cosa più importante ci aiuta a rilassare il sistema nervoso parasimpatico. Perché quando riduco il passaggio intestinale di nutrienti, magari lo sto anche rallentando il passaggio dei patogeni, così il mio sistema immunitario rimane rilassato, non va in un stato di allarme, non mi aumenta l'infiammazione nel corpo e mi potrebbe aiutare a sentire più rilassata, più tranquilla, più beata e addirittura quando io mi sento più beata ho meno fame. Tutto questo con Mela Slim, così, consigliatissimo per chi sta già in menopausa, chi ha problemi del grasso viscerale che si vede che la pancia si gonfia, si gonfia, si gonfia, vi aiuta a sgonfiare la pancia, aiuta ad andare più regolarmente in bagno, aiuta con lo stato d'animo a essere più calmi e anche per tutti i miei amici che stanno avendo la prima abizzaglia di una precoce menopausa, prendete Mela Slim per aiutarti a calmare il vostro sistema nervoso parasimpatico. Un altro consiglio per dormire bene, bendate quegli occhi, perché noi abbiamo dei ricettori sui nostri nervi otici che anche a palpebra chiusa riesce a percepire la luce, è legato al nostro, diciamo, orologio interno circadiano e la mattina quando verso le tre e mezza e quattro di mattina comincia una prima spiraglia di luce e noi cominciamo a produrre il cortisolo. Però spesso e volentieri con tutto lo stress che abbiamo accumulato durante l'arco della giornata abbiamo un accesso di cortisolo e questo accesso di cortisolo non ci fa dormire profondamente, ci svegliamo con gli occhiai, ci svegliamo stanchi e non riusciamo a affrontare la giornata con la verve e l'energia giusta. Per non dire quanto è importante ripararci il corpo di notte, è molto importante dormire tutta la notte, 8 ore a notte, profondamente e non svegliandoci ogni 15 minuti. Per fare tutto ciò vi invito a prendere una maschera come questa di Be Good. Io metto questo perché mi permette di bendare la luce, l'arrivo della luce magari precocemente, perché poi succede anche la luce della strada o un aspiraglio di un televisore o la luce del tuo cellulare, tutto questo potrebbe interferire con la qualità del sonno riducendo, diciamo, la possibilità del tuo corpo a rigenerarsi la notte, ricaricarsi la notte, stancandoti ulteriormente non soltanto il sorinale ma tutto del sistema per semplicemente non sentirsi pieno di vitalità. Per questo vi invito di prendere una maschera, ma che maschera? Voglio spiegarti che con Be Good abbiamo fatto questo progetto insieme perché questo lato di Be Good è imbevuto di acero ialloronico, dei principi attivi che possono nutrire la zona periocolare di notte. Così dormo, dormirò più profondamente ed in più sto facendo un vero e proprio trattamento di bellezza per i miei occhi durante la notte mentre sto dormendo. Altro problema della menopausa, la cellulite, ahimè, la cellulite comincia a sbocciare durante la menopausa in moto dei miei amici. Dice, ma non capisco, c'è la pancia che mi sto crescendo, il metabolismo che mi ha rallentato e la cellulite che appare. Allora c'è una tattica multidisciplinare che possiamo utilizzare per aiutarci. Allora tutti i giorni posso mettere un Be Good che è una bioceramica, un tessuto attivo con bioceramica che non si lava mai via, più la cosmesi. È unico nel mondo, ok? Brevettato come cosmetto tessile a livello europeo. E che cos'è una cosmetto tessile? È, ha un'azione cosmetica sulla pelle per aiutarci a drenare, migliorare la qualità della pelle perché stimola il mio fibroblastio a produrre più collagene per dare un aspetto più giovenile sulla pelle stessa. Mi aiuta a rilassare la muscolatura e riscaldare anche le articolazioni perché comunque man mano che arriviamo a 50 anni abbiamo più acciacchi, ci riscaldi i lombi e ci dà anche una sensazione di benessere che di nuovo riduce lo stress. Perché è molto importante di tenere il stress a bada sia per le mie amiche che stanno andando verso una menopausa precoce e sia per le mie amiche che stanno già a menopausa che devono lavorare sui anestetismi delle cellulite. Così la possiamo mettere in palestra, la possiamo mettere sotto una gonna, la possiamo mettere come un fuso. Questa è una tecnica che zero fatica ti dà tantissimi risultati, talmente tanto. Mettete questo prodotto, guardatevi un orologio e entrate 90 minuti vedrai che comincia a scappare in bagno per fare tanto plin plin perché ti drenano per una questione proprio della bioceramica. Si chiama Dermofibra Cosmetics, creano un infrarosso raggio lontano che è invisibile all'occhio nudo ma ti permette di disaggregare le adesioni molecolari dell'acqua nel tuo corpo da gocceloni a diventare gocceline che aumenta l'osmosi cellulare, ci aumenta la possibilità di essere riassorbito dal microcircolo per essere drenati, drenati, drenati e tu vedrai come ti senti più leggera. Altro kit di sopravvivenza per il periodo del menopausa. Ok, il cupping system. Il cupping system è la mia soluzione a quelli grandi, meraviglioso, incredibili macchinari del centro estetici però che costano 80 euro a seduta. Funzionano? Ah mamma mia se funzionano. Non ha problema, sono i soldi. Allora con questi kit la prima cosa che facciamo dopo aver messo una crema emolliente è di massaggiare la zona, ok, per aiutare la nostra condizione, ok, del tessuto connettivale a ridursi, ammorbidirsi, rilassarsi. Allora per le mie amiche che hanno problemi di vene varicose, fragilità capillare o varici, solo dal genocchio verso su, li tiri su, tiri su, tiri su. Per le mie amiche come me che non ho questi problemi, io energicamente vado a concentrarmi un movimento circolatorio sulla zone che sono più, diciamo, ostinati da quando si parla degli anestetismi della cellulite. Dopo cinque minuti che abbiamo utilizzato nostra, diciamo, spazzola di silicone semi rigide, così non mi provoca dei lividi perché è più morbido di uno plastico duro, vado a passare alle ventose, ok. Le ventose possono essere utilizzate di diverse intensità dipendendo quanto li chiudo e li lascio sulla mia pelle. Qui è necessario sempre di tracciare da basso verso alto per far sì che i liquidi vanno dalle arti inferiori verso il busto per essere eliminati più facilmente, ok. La spingi, tiri su, guardati voglio far vedere qua, lasci e ricontinui proprio a tracciare tutta la gamba. Dedicatevi circa dieci minuti a zona, gamba, coscia destra, coscia sinistra, gluteo destra, gluteo sinistra, pancia, braccia, ovunque che volete potete utilizzare questi comodissimi ventosi che a aiutano a drenare, b grazie alla crema e emolliente che usi a migliorare la qualità della pelle e migliorare gli anestetismi della cellulite. Un altro nemico che ci tradisce l'età è la pelle, ok. Dopo che noi finiamo l'età fertile entriamo nel menopausa, ma nel menopausa a quel punto, senza quei ormoni buoni e belli, cominciamo a perdere anche il tono della pelle. Come possiamo fare per migliorare anche questo aspetto? Facilissimo. Per bocca possiamo prendere Skin Renew, è il mio integratore che è un mix tra vitamine, biotina, bacca di goji, collagene e acido ialluronico per bocca, ok. La cosa importante qua è collagene e acido ialluronico per bocca, perché in molte case produttrici ti vendono o uno o l'altro, qua ce l'hai tutto insieme. Quando prendo una capsule di Skin Renew mi posso scattare le foto e dopo dieci giorni vedere la differenza, come se avessi fatto un lifting da un chirurgo estetico, è qualcosa di impressionante perché l'acido ialluronico aiuta a riempolpare e dare turgore, turgiore alla mia pelle. E la collagene poi va in modo continuativo a riempolpare, proprio risostenere la pelle, stimolando i fibroblasti a produrre più collagene, perché andiamo a nutrire il fibroblasto che produce questa ragnatele di collagene e elastina dentro la pelle, per avere una pelle più giovane e più bella. Ma la cosa bella di Skin Renew non è solo per la faccia e per i gomiti e per la pelle delle gambe e per le ossa e per gli organi interni. Ovunque che tu hai collagene nel corpo lui aiuta, là dove serve, a integrare il collagene. Il siero di bave di lumaca e acido ialluronico, una bomba altamente concentrato. Guardate con che velocità si assorbe questo siero sulla mia pelle. Ricordate che per essere efficace devi assorbire in un battibaleno. Se rimane in superficie vuol dire che non sta scendendo in profondità i principi attivi per nutrire la pelle dove mi serve, della matrice sotto per dar sostegno. Vedi, la mia pelle ha già imbevuto tutto questo meraviglioso siero e un altro di quei prodotti fotografabili. Scattatevi una foto, ok, di lato a lato frontale, mettete questo siero mattina e sera per una settimana, dieci giorni, riscattate le foto e sarete veramente strabiliate delle differenze per migliorare l'aspetto. Le persone cominciano a dire ma hai dormito, ma quanto ti trovo fresca, giovane, semplicemente più bella. La cosa bella è con centismi poi alla fine riesci ad avere un risultato senza percorrere a chissà che cosa per avere un aspetto più giovane, più bella e anche più bella per te stessa. Mena pausa, ovviamente anche il problema del rallentamento metabolico quasi in 24 ore. Ti vedi che il tuo metabolismo era bello, attivo, rombante fino a un certo età, a un certo punto si blocca. C'è proprio uno freno metabolico molto importante, ovviamente legato ai vostri ormoni. Per questo vi invito di provare un potenziatore metabolico. In questo caso ti sto facendo vedere Forscolina, che Forscolina dà tantissima energia e dall'altra parte per le mie amiche che hanno un problema di accumulo sul culotte chaval di un adipa in eccesso, la Forscolina ci aiuta, abbiamo visto negli anni che abbiamo presentato questo prodotto che va a sfinire la donna ginoide. Per le mie amiche che sono magari più a mela ti posso consigliare un caffè verde o una mela slim e con tutti vi consiglio assolutamente di prendere L-carnitina che è un vero e proprio percursore di bruciare i grassi nel tuo corpo. Perché così, riattivando un metabolismo che si rallenta, il nostro metabolismo si rallenta alla velocità di circa 1% all'anno e galoppa dopo i 50 anni, se volete tenere la linea con una frazione della fatica, provi con questi integratori e vedrai come troverai una seconda gioventù. Assolutamente non può mancare i consigli del movimento in menopausa, il movimento è quello che ci tiene lontano i problemi della sarcopenia. La sarcopenia è una graduale perdita proprio di massa magra a discapito del grasso, cioè i nostri muscoli cominciano a diventare sempre meno forti e cominciamo a depositare sempre più grasso. Questo ci rende fiacche, questo ci rende deboli, questo ci rende vecchie. Per evitare una perdita di massa magra che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo allenare con costanza. Due attrezzi igienici che vi consiglio con tutto il mio cuore, con tutta la mia passione e il trampolino che ci aiuta anche a allenare il nostro sistema cardiovascolare in un contesto divertendo e proteggendo le articolazioni. E sì, si può saltare con problema sia di genocchio che ernia del disco, perché molte persone, me incluso, io ho l'ernia al disco, salto come un coniglio. E le pedane vibrante. La pedane vibrante aiuta i nostri muscoli a rimanere forti, ci aiuta le ossa contro le osteoporosi che può purtroppo succedere dopo la menopausa e ci aiuta a drenare e con gli anestetissimi delle cellulite. Tutti e due sono anticellulite, questo è aerobico per il sistema cardiovascolare e questo è più proprio per tessuto connettivo per aiutarci con gli anestetissimi delle cellulite e anche tenere i nostri muscoli più sodi, più forti per, non so, invecchiare bene e sentirci meno impauriti di questo menopausa. Spero che vi siete trovati bene con tutti questi consigli per la menopausa. Scrivetemi le vostre domande e io piano piano vi farò, diciamo, un video per tutte le vostre domande sul mio canale YouTube. Grazie per essere qua, se ti è piaciuto questo video mi raccomando cliccate like e iscrivetevi su questo canale perché ci sono sempre tante notizie che voglio darvi per aiutarvi a stare meglio nel corpo e nella mente.